Partita la registrazione Mi senti? Sì sì E che sto prendendo un po' di roba Ah ok Allora in pratica stiamo cercando di arrivare alla base In questo server Particolare Cosa è che dobbiamo andare? Di qua Sicuro? No Eh ti ha detto di fare Mi ha detto di andare Mi ha detto di seguire la bussola qua Tanto c'è da andare dritto Quindi fidati che sto episodio qua sarà tutto un cercare di tornare indietro Cioè è tutto così Non si troveranno alberi Non ci sarà niente Sarà tutto per correre questi corridoi Beh dai però abbiamo fatto qualche ripresa a inizio video Dove abbiamo trovato il portale Hai la crafting table? Sì Mettela giù Aspetta che mangiamo un po' di angugna Ti batte sul tetto Aspetta che mi faccio la cotta d'oro perché sennò mi attaccano i piglins Sì ma io ho quei golden boots non li posso mettere perché questi qua non posso più toglierli Ah perché hai il curse of attack Quello lì c'è qualche maledizione Vabbè vieni qua Eccomi qua Pronti a ripartire Ma c'è uno zombie sei tu No non ti attacca dai Vieni dritto Lo supera Sì sì Aspetta Ti do due o tre pulli Sì sì adesso sono a posto Due o tre pulli Andiamo Di qua No Ma tu hai un po' di oro Sì ho la cotta d'oro Eh potrei farmi l'elmetto d'oro se hai altri lingotti Sì ma l'elmetto è la roba più forte che hai Hai la cosa Eh ma ha detto che non ci attacca se c'è quello d'oro Sì 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 Dov'è la crafting table? L'ho messa giù è sparita L'hai in mano? No Ah ok Era pagato No No perfetto Adesso uso l'elmetto per buttare giù la crafting Allora almeno l'elmetto posso metterlo Bene Con la nostra spada di ferro andiamo avanti Beh insomma è un video molto di intrattenimento Di qua Sicuro? No Cosa c'è qua? C'è una cesta Qua va va Niente di utile Insomma Andiamo giù qua Preparati Aspetta che i blocchi lì mi sa che li prendo Aspetta Che ci sono utili perché se dobbiamo fare un corridoietto per Ah ok Li prendi tutti te e prendo qualcuno anch'io Cioè prendili anche tu Cioè bastano due stack vanno bene Ok No ma mia non prendevo Minecraft in mano da sei anni Allora qui c'è un altro portale Proviamo a prenderlo Sì dai Intanto per vedere dove è porta Porta Ah ok 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 no perfetto 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 Ci sono già stata sta base Di qua Ok Ci sono già stata sta base Ok No volta Dobbiamo andare tipo di qua Un attimo Che C'è da linea qua No non c'è un cazzo E aspetta allora sarebbe meglio uccidere sti qua Adesso Adesso sta arrivando il giorno Quindi meglio aspettare un attimo Ok Vediamo qua cosa è Mi pare che questa base qua Avesse tipo una canaletta che vai su Non sono sicuro però No no questa è una scavata per i minerali Aspettiamo che venga giorno Poi prendiamo un albero E Aspetta che spacco sta nuova Bisogna rimetterlo No 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 ma non è fuori Non è fuori Ci crepi sicuro Il problema è che ci sono degli zombie che hanno le robe incantate Addirittura Eh sì perché sto qua è difficoltà massima Sto gioco Di rischiarli Eh bisogna proprio ucciderli si Ma no no Oh c'è che io c'ho sweeping edge c'ho Vuol dire che se tiro una spadata colpisco tutto quello che ho attorno Quindi è molto facile che ti attacco Se ti attacco ti muori abbastanza Molto sicuro Oh ma c'è pieno di teschi Perché i teschi non prendono fuoco? Capitana Anand Quel teschio lì Mi sa che la provo tanto Non è che C'ho tanto Vabbè Eh sono tutti qua sotto C'è proprio un porcaio Eppure il creeper Se esplodesse il creeper Eh ha ucciso tutti quel creeper Eh scendi Ammazziamo questo qua Ok Un'altra c'è Mi ha dato Occhio No Ce n'è ancora No ne vedo mica altri Ah creeper cazzo No Meglio che prendo le robe cazzo Però c'è un scheletro di merda qua Riprendi tutto Eh infatti adesso guarda No I sec Non è Gassano Non è Per via delle cagate qua No Un creeper Mi ha beccato Scappa Sì infatti Qua ci sono le tartarughe C'è un pollo Aspetta Aspetta che arrivo Sì il problema è che Ho pieno di stack Non so se riesco a prendere tutte le robe No dai le ho prese Ma adesso riesci a tornare in fretta O ci metti un po' Vediamo se funziona il trucco Non si può costruire una base provvisoria qua Tipo Aspetta un attimo Perché secondo me Tipo fai un Un letto Sì sì tu sta lì intanto Io arrivo Vado sull'isoletta Sì sì sta lì sta lì Intanto provo a fare Una cosetta Tried to swim In lava Eh ma sta roba qua ci verrà utile Aspetta un attimo Vediamo se riesco Perché Forse ritrovo i miei item Che il problema è che sono morto sul tetto Ok adesso qua faccio la casetta Sulla sabbia Pierino sulla sabbia Sì Pierino sulla sabbia Come lui A che punto eravate Diti che siamo rispawnati Diggli pure tu Diggli pure tu Diggli pure tu Mi sto vedendo se riesco a recuperare la roba Com'è che si fa una porta? Una porta? Oh no Sì dovresti puntare come ha detto lui A farti il letto Ok devo trovare Devo trovare la legna però Che trucco di merda Che mi ha insegnato Non c'è neanche un albero Però posso piantarlo in effetti Sì E se hai un osso Puoi fare la farina d'osta Così cresce più in effetti Eh infatti Ole Non è cresciuto niente alla fine Ok adesso sì Eh figo figo Ci sta Porca puttana Non riesco a riprendere la roba Mi sa che ora che arrivi qua Cominciamo la prossima puntata Sì questa Beh ma in teoria Ci arrivo anche in due secondi Di dove sei E il problema è che Vedo la Quando arrivo nel nether Vedo la mia roba lì E dico Cazzo voglio prenderla Dove è la tua roba lì? Eh tutta la roba che ho perso Soffocando nel nether Perché Beppone non mi ha detto Che dovevo una volta Che arrivavo lì sloggare Però non me l'ha detto Quindi ci sono crepato Ma prima 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 O adesso? Sì prima Quando è venuto un messaggio Che ero soffocato Ma c'è Ed è ancora lì? Eh sì che è ancora lì Ah Eh ma pensavo che dopo 3-4 minuti Andasse via Ma vabbè Comunque Comunque Adesso sto arrivando Ok Mi faccio Il giretto Con l'hender Per Beh Quasi quasi Mi conviene andare Dal No adesso ho fatto La porta È già lì Oh Adesso C'è un rifugio Vabbè dai Allora adesso Stacchiamo E ci vediamo Nella prossima puntata Se vediamo Se riusciamo A ritrovarci Ci facciamo anche Riconoscere Riconoscere